Mauro caro Un po' di cassa in spia? Si E' un pochino Niente Un po' di voce va bene così Un po' di cassa in spia per favore Aspetta un attimo Perchè va bene Non va bene Per niente Ehm Questo è l'Americo Allora ragazzi Miss Social Un po' di cassa 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti